Con l'avvio del senso unico alternato per i lavori comunque necessari nel Gran Sasso per la messa in sicurezza dell'acquifero però si sono palesate tutte le problematiche di questa messa in sicurezza. C'è il terramano, soprattutto il terramano, che è paralizzato. Sì, insomma era prevedibile ma in realtà quello che sta avvenendo nei primi giorni è forse peggio del previsto. In termini di impatto ecco perché è assolutamente necessario mettere in campo da subito, immediatamente, tutte le azioni che consentano di ridurre il disagio. I tecnici devono lavorare non tanto per questi 45 giorni propedeutici alla progettazione ma per la prospettiva lunga dei tre anni, se tutto va bene, dei lavori che dovranno essere realizzati, lavori necessari per la messa in sicurezza del sistema idrico ma che ovviamente non possono determinare il rischio di mettere in ginocchio una provincia, quella terramana, che paga più di ogni altra. Io ho sentito alcune dichiarazioni nel corso di questi giorni da livelli istituzionali più alti in cui si dice che la provincia dovrebbe sorridere. No, nel senso c'è una situazione drammatica che oggi rischia di essere pagata solo ed esclusivamente dai cittadini terramani perché le alternative non ci sono, non sono credibili le alternative di traffico su cui non è stata fatta un'attività di programmazione. Ecco perché nel massimo dialogo, nella collaborazione istituzionale si devono adottare fin da subito tutte le misure di monitoraggio effettivo e di miglioramento della situazione attuale del traffico e della scelta di riduzione del traffico per arrivare poi ai lavori senza questi disagi. Il semaforo intelligente forse deve esserlo un po' di più, tutte le altre misure che possono e devono essere messe in campo devono essere valutate oltre che all'aspetto che abbiamo chiesto della riduzione o abbattimento del pedaggio che deve essere fatta immediatamente, ovviamente non a carico dei comuni ma da parte di chi ovviamente ha le spalle più grosse per sostenere questa emergenza perché di fatto pur essendo un'attività programmata necessaria e lo ribadiamo rischia di diventare un'emergenza nell'emergenza per la nostra provincia. Lo ha detto lei, è mancata un po' una visione di insieme anche perché anche le alternative, il passo delle capannelle a 14, a 25 sono oggetto di cantieri importanti? Non sono alternative e quelle che sono state prospettate non lo sono sicuramente per la città di Termo o la provincia di Termo che è penalizzata e isolata a più delle altre quindi occorre assolutamente affrontare subito questa che è di fatto una vera e propria emergenza chiamiamo l'emergenza programmata ma pur sempre emergenza è.